Questo progetto nasce da dei miei ricordi molto intensi, quando ero a Firenze, quando ero bambino, e i miei genitori, come molti, collezionavano questa collana, i maestri del colore che si vendeva in edicola. Mi ricordo che erano tempi particolari, almeno nella mia famiglia, dove la cultura, l'idea di arte, era molto forte, molto intensa, e quindi era una specie di rito comunque importante. E quindi ho sempre percepito questi fascicoli come qualcosa di importante, che poteva comunque elevare la mia famiglia a una certa idea di arte, di cultura e di un nuovo benessere.